Una serata ricca di ospiti e glamour nella villa comunale ha chiuso la settima edizione dell'Ariano International Film Festival, un viaggio intenso ed entusiasmante nella produzione cinematografica indipendente. Alla cerimonia di chiusura presenti tanti volti noti dello Star System, tra cui Nino Celeste, Fabio Roncato e la bellissima Emily Shah. A presentare l'evento ancora una volta Franco Pini. Novità di questa edizione il CineLab, progetto finanziato dal MIBAC, che ha visto i ragazzi dell'Istituto Covotta impegnati dal mese di febbraio in attività legate al mondo del cinema. Con la premiazione dei vincitori si è chiusa quindi da quattro giorni di cinema d'autore, che ha trasformato Ariano in un teatro a cielo aperto, confermando il trend già molto positivo registrato nelle precedenti edizioni. Tra i vincitori di questa edizione si segnala Essere diversi, l'opera prima del regista originario di Prato la Serra, Francesco Musto, premiata dalla giuria popolare nella sezione cortometraggi.